Stop al reddito di cittadinanza a partire dal 1 agosto per 169.000 famiglie italiane. L'SMS inviato dall'Inps nei giorni scorsi con cui si informa della sospensione del sussidio introdotto nel 2019 dal primo governo Conte è arrivato anche a 35.000 pugliesi, secondo i dati della regione. Uno stop ampiamente preventivato dall'ultima legge di bilancio del governo che dispone la cancellazione completa del sussidio a partire dal 2024 e la sua interruzione già dal 1 agosto per tutti i beneficiari, esclusi i nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni ed over 60. Per queste categorie è previsto dal 1 gennaio la sostituzione del reddito di cittadinanza con l'assegno di inclusione. Per chi rimarrà escluso il governo centrale ha invece previsto il supporto per la formazione, un contributo di 350 euro mensili della durata di massimo un anno. Per il ministro Salvini chi non può lavorare continuerà a essere aiutato, ma chi può lavorare e non vuole farlo è giusto che non sia più mantenuto. Dalla CGL Puglia parlano di una vera e propria bomba sociale pronta ad esplodere, l'eliminazione di un sostegno minimo alle famiglie più bisognose rischia di sfociare intenzioni e disordini, avvertono dal sindacato, secondo il quale in Puglia oltre 80.000 persone sono povere benché occupate e il 20% dei beneficiari del reddito di cittadinanza percepisce la misura di sostegno anche se un lavoro ce l'ha. Perché precarietà e sfruttamento proseguono dalla CGL, impediscono di dare concrete risposte in termini occupazionali e chi vuole reinserirsi nel mondo del lavoro incontra spesso difficoltà insuperabili. Nell'ultima rilevazione IMSS relativa al mese di giugno, i nuclei familiari in Puglia beneficiari del reddito di cittadinanza sono stati quasi 87.000 per 194.000 persone coinvolte, l'importo medio mensile è stato di 593 euro. Oltre 22.000 dei beneficiari sono residenti nell'area metropolitana di Bari, seguono Lecce e Taranto con 16.000, Foggia con 14.500, quindi Labbatto con 9.600. L'eliminazione del reddito di cittadinanza colpisce le fasce più fragili della società, concludono dalla CGL, mentre non si prendono misure adeguate contro un'evasione fiscale che si avvicina ai 100 miliardi annui.